Al Via all'estate, da domani, domenica 7 luglio, tutte le domeniche fino al 15 settembre a Mercogliano sarà possibile vivere a pieno Viale San Modestino, come spiega ai nostri microfoni il sindaco Vittorio D'Alessio. Inizieremo da domani 7 luglio, questi fine settimana, domeniche chiusi al Viale, ritornando un po' all'antico, come si faceva un tempo quando portavamo a Mercogliano tutti gli avellinesi per godersi un po' di fresco sotto gli alberi, questi monumenti. Abbiamo a Mercogliano i platani del Viale San Modestino, quindi inizieremo queste domeniche per poi probabilmente allargarle anche a qualche altra giornata, laddove dovessimo riscontrare un successo di questi eventi e proveremo a ridare un po' di dignità a questo Paese. Sono entusiasta del fatto che associazioni, commercianti sono tutte intorno a noi, ci chiedono di fare questo tipo di eventi e noi li abbiamo accontentati. Quindi rilanciamo Mercogliano a partire dal Viale San Modestino. Possiamo definirlo il primo atto del suo programma che ha coinvolto i commercianti, la comunità, le associazioni, così come aveva detto in campagna elettorale? Stiamo rispettando alla regola tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale. Siamo partiti dal piccolo, dalle piccole cose, da rendere vivibile un Paese e continueremo punto per punto a realizzare quello che abbiamo promesso e lo faremo. Partiremo dalle piccole cose per poi arrivare anche alle grandi cose. Al Via L'Estate è stata possibile grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale, le associazioni, i cittadini e i commercianti, come sottolineato da Giuseppe Barone, delegato all'associazionismo, alle politiche giovanile e agli eventi del comune di Mercogliano. C'è stata una stretta collaborazione con tutti i commercianti e le associazioni, quindi i commercianti proporranno i loro prodotti. Ci sarà un intrattenimento per i bambini con dei piccoli spettacoli e un intrattenimento musicale attraverso la filodiffusione. Folklore, questo è il tema principale della serata, quindi si potrà assistere anche a degli spettacoli? Sì, per questa prima domenica abbiamo scelto come tema folclore. Ci sarà un gruppo itinerante, Montagna di Somma, che suoneranno tamur e quindi musica popolare. Vogliamo dare l'appuntamento, ricordare l'appuntamento ai nostri telespettatori, quando e dove? L'appuntamento sarà domenica dalle 18 alle 24, Isola Pedonale, e per tutte le domeniche di luglio ed agosto e le prime due di settembre. Grazie.